buongiorno siamo a busto garolfo al presidio antidiscarica insieme a susanna biondi che di busto garolfo è il sindaco nonostante una pioggia battente nonostante le leggi enorme anti covid oltre un centinaio di persone si è riunito evitando assembramento a che scopo siamo qua nonostante appunto tutte queste difficoltà che hanno portato anche il comitato a chiamare la cittadinanza sì ma con molta attenzione perché non è intenzione di nessuno creare assembramenti poi stamattina è anche brutto tempo come possiamo vedere nonostante questo abbiamo un buon numero di cittadini perché siamo qua siamo qua ancora una volta per dire ancora no alla discarica alla vigilia dell'udienza del tar che si terrà martedì 9 febbraio siamo arrivati al punto di discutere davanti al giudice se sono state correttamente rilasciate la via e l'aia quindi la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale e atti che hanno rilasciati da città metropolitana che hanno permesso alla ditta solter di andare avanti con questo progetto e avviare anche i lavori di approntamento questo progetto a quando risale quanto tempo dura questa battaglia anche legale allora io devo dire che sono sindaco da sette anni e sono sette anni esattamente che ho questo progetto e questo questa preoccupazione per il territorio davanti e in questi ultimi sette anni abbiamo affrontato prima la presentazione di un progetto per una discarica di rifiuti contenenti amianto che è stato bocciato da regione lombardia perché non erano previste le distanze rispetto alle abitazioni e subito dopo è stato presentato quest'altro progetto di per rifiuti speciali che invece purtroppo è andata avanti è andata avanti in questo contesto perché lo dobbiamo aver presente quanto sia illogico dare un'autorizzazione in uno spazio come questo una discarica enorme abbiamo già detto 11 campi da calcio profonda 10 metri con sopra la montagnetta di 6 del bel mezzo di un parco agricolo nel plis del roccolo e in un'area che è assolutamente di pregio ambientale importante dal punto di vista delle della biodiversità è un corridoio ecologico non ha senza alcuno pensare di poter portare qui un progetto di questo tipo che fra l'altro è anche un pensiero dietro a questo progetto sta un pensiero vecchio e superato no l'europa stessa ci chiede di andare verso la l'economia circolare e noi facciamo invece questi disastri a 200 metri dalle case lo voglio dire grazie sindaco